ora che è terminata la mente di un altro burro dove la prenderà lentamente fino a domani mattina eccola qua questa è la allora siamo tutti sì 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 allora benvenuti a Murano benvenuti quel posto Murano sarà una bella dimostrazione perché ancora abbiamo già terminato il materiale che stanno vedendo si trova ancora a mille gradi di temperatura E' un'altra tecnica più antica che la soffia più grande. Il colore rosso che stanno vedendo è dovuto appunto alla caloria, poi quando la prendo un po' apparirà la vera colorazione. Quando dice il colore, consigliate il colore, forse dipende da olsani e minerali. La soffiatura si fanno tutte le cose che sono gote all'interno, bicchieri, lampadari, tutto quello che vuoi. Quando dice il lampo o dell'assist, inserisce il depedito, inserisce il bloccio. Normalmente siamo a una ventina, ma come spiegato terminiamo alle due. Normalmente c'è il quentipo e l'olio che parte con il tuo bloccio, ma se non le dimostreremo. Bisogna continuamente girare il materiale, vedi a dire che cadrebbe, e poi mettiamo dell'aria all'interno. Questa sarà una bella calaffa. Quando comincia a vederci il vero colore, vuol dire che sta raffreddando, e allora bisogna riscaldarlo. Se stacca dalla carne principale, così, magari con un po' d'acqua, e poi viene pondellato in questa maniera. Così facendo, resterà un segno nel pomo, che vuol dire che passa a mano, un marchio di garanzia. Dopo solo il basso, vedete la signatura, perché è sicuramente per la carne. Perché il gruppo di legno è ritorno a 1000 gradi in cerro, vedi? Solo un minuto, e ritorniamo a 1000 gradi in cerro. Ora lo posiamo a prendere. Ora lo posiamo a prendere. Ora lo posiamo a prendere. Un po' di materiale caldo, metteremo a prendere. Ora per il complesso, per il santo. Come possono vedere, non c'è nessuna macchina, ma facciamo tutto in maniera accitanale. Sì, il santo macchina, non sta in solido, va in maniera. ora che è terminata la mente di un altro burro dove la prenderà lentamente fino a domani mattina l'apprendamento lento è una garanzia che lo gente diventa per l'opposto una buona